Oggi comunque vedremo una manifestazione che va soprattutto anche per onorare Giulia e tutte le altre ragazze che hanno subito la stessa sorte di Giulia. Oggi noi vedremo questa manifestazione che va anche a denunciare la condizione della nostra società e quindi anche che è qualcosa che comprende noi ragazzi è molto importante perché questo messaggio va soprattutto imparato già da adesso e quindi è un po' una sorta di omaggio a Giulia e a tutte le altre ragazze. Personalmente le istituzioni è stato già da tempo inserito il diritto di voto anche alle donne però secondo me anche in base a quello che ho scritto e che andrò a leggere è il pensiero della società il pensiero di ognuno di noi che deve andare a cambiare individualmente. Soprattutto in questa superiorità magari dell'uomo che ha nei confronti della donna questo bisogno di andare a controllarla che c'è ecco deve cambiare secondo me in questo quindi deve sparire questa superiorità che l'uomo prova questa ossessione, questo possesso. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne installata al Plesso Falcone una panchina rossa donata dal comune di Modica. Letture, riflessioni e performance artistiche di alunni, genitori e docenti per ricordare le vittime di maltrattamenti e abusi e dando voce ai diritti di tutte le donne contro ogni forma di violenza, discriminazione e disiguaglianza di genere. Una temporanea di denuncia che comunque dà significato al lavoro che viene svolto anche nelle scuole in maniera da poter comunque educarli a questa forma di discriminazione che c'è per la parità di genere e quindi questi eventi servono per puntare il focus sul lavoro ottimo, eccellente che all'interno degli istituti scolastici si fa e quindi l'impegno delle insegnanti e degli studenti che comunque poi arriva alle famiglie. Comunque sono molto contenta che a tutti questi incontri siamo stati tutti presenti, le autorità civili, militari, in modo da attestare la nostra maniera di fare rete e la nostra disponibilità non soltanto all'ascolto ma anche all'azione. L'iniziativa conferma l'attenzione che questa istituzione ha nella prevenzione di quella che è ogni forma di discriminazione, volta proprio ad attenzionare quella che è la cultura del rispetto contro anche ogni forma di violenza di genere. Noi ci lavoriamo ovviamente insieme alla famiglia attraverso quello che poi è il patto educativo di corresponsabilità prendiamo in carico percorsi formativi e questi percorsi formativi sono intrecciati tra di loro, abbiamo iniziato con quello che sono il percorso nell'analisi dei diritti e i doveri dei fanciulli, degli alunni e quindi dei bambini in genere per poi la manifestazione precedente era legata all'articolo 33 della Costituzione novellato riguardo proprio all'attenzione che c'è nella promozione del valore dell'educazione fisica e quindi valore educativo dell'educazione fisica quindi il rispetto anche nel fair play dei diritti e dei doveri, anche nel fare squadre insieme agli altri. Questa iniziativa di oggi proprio è un modo per sensibilizzare maggiormente i ragazzi a quello che è il rispetto e in quella che è la parità tra i sessi che gerarchicamente storicamente diciamo che c'era l'uomo che predominava sulla donna quindi una cultura legata, un'educazione legata alla parità tra i sessi contro ovviamente ogni forma di discriminazione e violenza e l'istituto Raffaele poi domani ha questa grande sensibilità e lavoro e squadra e a rete insieme alle famiglie e alle altre istituzioni del territorio. Grazie a tutti. I professionisti dell'azienda sanitaria in particolar modo la dottoressa Maria Antonietta di Rosolini direttore dell'unità di malattie infettive del presidio ospedaliero Giovanni Polo II di Ragusa e la dottoressa Daniela Bocchieri responsabile dell'unità per l'educazione e la promozione della salute aziendale diventano veicolo di un messaggio a più canali durante la mattinata infatti esiterà il concerto di Francesco Cafiso e Marco Grillo mentre l'attore Carlo Cartier reciterà alcune letture attinenti alla tematica. La malattia da HIV è una pandemia mascherata spesso dimenticata dai media che colpisce da più di 40 anni contro la quale siamo tutti chiamati a lottare dicono le dottoresse di Rosolini e Bocchieri. L'Istituto Superiore della Sanità ci dice che nel 2021 nel 79,5% dei casi le persone che hanno scoperto di essere positiva all'HIV sono maschi, l'età media di 42 anni per i maschi e 41 per le femmine e l'incidenza più alta si riscontra nelle fasce di età 30, 39 e 25, 29 anni. Inoltre la maggioranza delle nuove diagnosi di infezioni d'HIV attribuibili a rapporti sessuali non protetti da preservativo che costituiscono l'83,5% di tutte le segnalazioni. Ma un aspetto da non sottovalutare è la prevenzione. Nel 2021 sono il 23,6% delle persone diagnosticate con AIDS e ha eseguito una terapia antiretrovirale prima della diagnosi. Inoltre è aumentata la proporzione delle persone con nuova diagnosi di AIDS che ignorava la propria sieropositività e ha scoperto di essere HIV positiva nel semestre precedente alla diagnosi. L'evento del primo dicembre, concludono di Rosolini e Bocchieri, punta alla sensibilizzazione nei giovani studenti, ritenendo che la cultura è il vero mezzo per informare. Aprire la mente attraverso la letteratura e la musica serve a superare lo stigma verso questa malattia, abbracciare la solidarietà nei confronti di chi subisce violenze e rischia il contagio e diventare esempio per una società che sta vivendo un tempo difficile e ha bisogno dell'aiuto di tutti noi. Contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti, delle costruzioni abusive, degli sversamenti e delle baraccopoli collegate al caporalato, il comune di Scicliate rita al progetto a GEA che consente di utilizzare gratuitamente una piattaforma dotata di cartografia online al fine di monitorare il territorio e contrastare reati ambientali che spesso portano con sé anche situazioni di degrado sociale. A darne l'annuncio il sindaco Mario Marina e l'assessore Enzo Giannone che hanno dato mandato alla comandante della polizia locale Maria Rosa Portelli. Il ministro dell'Interna ha stipulato nel 2018 con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a GEA un protocollo d'intesa avviando il progetto Criminal Focus Area per rafforzare le condizioni di legalità in cinque regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia interessate dal PON Legalità FESR 2014-2020. L'Agenzia per l'erogazione in agricoltura ha predisposto un'attività che prevede attraverso l'analisi di immagini aerofotogrammetriche registrate in due o più distinte fasi temporali di individuare e analizzare l'evoluzione del consumo del suolo individuando alcuni elementi che possano indicare la presenza di attività criminali quali presenza di rifiuti, scassi o cave riempite con potenziali sversamenti o altri inquinanti soliti, baraccopoli per lavoratori in nero soggetti al caporalato identificandone i criminal focus area da monitorare. La formazione che sarà erogata da GEA è destinata ad una task force istituita dall'amministrazione comunale, tecnici, polizia locale e amministrativi che saranno abilitati alle funzionalità del cruscotto di monitoraggio e le modalità di controllo del territorio comunale a salvaguarda della sua integrità. È già stato individuato un ufficio trasversale che completerà sia agenti della polizia locale che funzionari dell'ufficio tecnico i quali lavoreranno al monitoraggio attraverso aereofotogrammetrie del territorio per scoprire angoli nascosti in cui si consumano reati ambientali. Il rispetto del nostro paesaggio agricolo salverà la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia e il nostro sviluppo turistico, lo dice il consigliere comunale di Ragusa prossima Gianni Jurato avanzando una serie di riflessioni che hanno a che vedere con il prossimo esame degli strumenti urbanistici insieme al civico consesso. Girando a piedi per il territorio ibleo chiarisce Jurato, spesso mi capita di imbattermi in interessantissime strutture agricole, manufatti o ripari di contadini pastori arcaici legate alla tecnica della lavorazione a secco della nostra pietra calcare locale di cui il nostro territorio è pieno. Archettonicamente sono opere d'arte probabilmente di rango inferiore rispetto ai nostri edifici civili e religiosi barocchi unesco e non. Oggi, continuo aiurato, queste magnifiche opere dell'uomo ibleo che contribuiscono a rendere grande e particolare benissimo il nostro paesaggio agricolo sono da diversi anni in serio pericolo per scelto o non scelto urbanistiche miopi o perché non interessate a salvaguardare e recuperare manufatti del tipo nuragici importanti come quelli presenti incontrata a Renna, incontrata a Trecasuzzi, incontrata a Conservatore e via dicendo. In generale queste strutture rischiano di essere deturpate da un paesaggio circostante che la mano dell'uomo, le leggi dell'uomo hanno modificato senza tenere conto della dimensione storica paesaggistica dei luoghi che ospitano da secoli il bello, le nostre radici, la nostra peculiarità e la nostra unicità. Ecco perché nel PRG che presto andrà in consiglia anche in piena armonia con il piano paesaggistico ebleo dobbiamo lavorare tutti indistintamente non solo per pianificare con parsimonia nell'interesse pubblico il territorio ma anche per salvaguardare attraverso i doni e emendamenti l'istituzione di reti e percorsi tematici, un territorio ed un paesaggio ricco di manufatti tipici che anch'essi con la loro centenaria presenza compongono l'unicità del paesaggio ebleo nell'accessione più ampia del significato anche naturalistico del termine. L'Aggiunta Comunale di Ragusa ha approvato ieri il documento di programmazione e il bilancio di previsione 2024-2026. Si tratta del primo bilancio del nuovo mandato amministrativo, afferma il sindaco Peppe Cassì, che l'Aggiunta propone al Consiglio Comunale per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge, come da nostra abitudine, fin dal primo anno di lavoro. Oltre a dare continuità al lavoro del precedente quinquennio, la macchina comunale è ora di fatto all'ultimo fondamentale passaggio per poter partire con nuovi progetti e nuovi interventi. Il nuovo masterplan del Comune contiene infatti oltre 630 pagine di obiettivi strategici ed operativi del prossimo triennio. Una programmazione finanziaria complessa, quella del nuovo bilancio 2024-2026, prosegue l'assessore Giovanni Iacono, che vede l'amministrazione puntuale sulla tenuta dei conti e programma nuovi interventi. Stanziate più risorse per verde pubblico, impianti sportivi, emergenze abitative, contrade cittadine, manutenzioni. Ci saranno inoltre risorse importanti per la mensa scolastica e nuovi corsi universitari, fonte di ulteriore valore per il territorio. Previste nuove assunzioni nella programmazione del personale ed una maggiore lotta all'evasione e all'amorosità tributaria, confermate gli investimenti in opere pubbliche finanziate con i fondi PNRR e i programmi regionali. Avviata la nuova area urbano funzionale del programma POFESR 2021-2027 insieme ad altri comuni della provincia per nuovi investimenti in opere pubbliche e sviluppo territoriale. Ragusa sarà comune capofila. Il nuovo bilancio proposto nei termini di legge passerà ora alle valutazioni del Consiglio Comunale, uno sforzo amministrativo, programmatico e tecnico rilevante ma determinante per la tenuta dei conti pubblici e per poter raggiungere i nuovi obiettivi del mandato amministrativo. Dovrà sospendere per sette giorni la sua attività il titolare di un esercizio pubblico sito nella fascia costiera di Ispica che nelle scorse settimane era stato sottoposto ad un controllo di Polizia Amministrativa Interforzi in ottemperanza all'ordinanza del questore della provincia di Ragusa, dottor Vincenzo Trombatore, finalizzata l'attività di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento. In quella circostanza il dispositivo Interforze composto dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, dall'Arma di Carabiniere e della Guardia di Finanza avevano accertato che nel corso di una serata organizzata presso il citato locale non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal questore. In particolare venivano accertati sia il mancato rispetto dell'orario consentito sia la mancanza di doni e sistemi contapersone per ciascun varco d'accesso ed uscita che non hanno permesso così di quantificare l'effettivo numero degli avventori presenti nell'area autorizzata all'atto del controllo. Il questore della provincia di Ragusa, dottor Vincenzo Trombatore, in esito all'istruttore espletata da personale in servizio presso la divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza rilasciata alla titolare dell'esercizio pubblico, con annessi trattenimenti danzanti sito nella fascia costiera del comune di Ispica. Oltre alle sanzioni amministrativi erogate al trasgressore da personale del commissario di pubblica sicurezza di Motica, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, al fine di evitare il reiterarsi delle condotte contrari alle disposizioni e ai provvedimenti dell'autorità, ha pertanto sospeso per sette giorni la licenza a suo tempo rilasciata.